Pazzesco! Anche il Premier Draghi sostiene la paghetta di Stato grillina. Con un post su Facebook, Giorgia Meloni commenta l'intenzione, espressa oggi dal Presidente del Consiglio, di conservare il reddito di cittadinanza. Una manovra aggiunge la leader di FD che non ha in alcun modo prodotto o incentivato il lavoro, ma puro assistenzialismo. Oltre ai vari scandali legati a mafiosi e delinquenti di ogni tipo finanziati con le tasche dei cittadini per bene. Alla faccia del famoso cambio di passo. È troppo presto per dire se il reddito di cittadinanza verrà ridisegnato o riformato, come cambierà la platea dei beneficiari. Posso dire che il concetto che sta alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno. Lo ha puntualizzato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un breve colloquio con i giornalisti a Palazzo Chigi per un saluto prima della pausa estiva dei lavori del governo. Il Premier Draghi che plaudi al reddito di cittadinanza, condividendo in pieno il concetto che ne è alla base, oltre a essere in continuità con l'esecutivo Conte, lascia intuire che il suo governo non ha altre alternative per creare nuova ricchezza e occupazione. Così, in una nota Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera e Deputato di FDI. E pensare che in un momento come questo, in cui le imprese, soprattutto quelle legate ai servizi e al turismo, sono corto di personale, i percettori del reddito di cittadinanza potrebbero avere un lavoro. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!